...dietro di atto da porta a campo... ...como, ma lei era criminale... ...como la presa ai... ...ai amato il fratello che ha fatto... ...ce a me dice, no, per capo... ...dio, salta lì... ...salta lì, no, mi ha fatto la porta... ...ai amico, 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 amico... ...ma no, non mi ha fatto... ...fai un po' parella a destra di vicini... ...a battaglio... ...bueno, allora non mi ha detto... ...dio, che mi dice, va a chi? ...perchiamo i basti lunga, ma... ...acero no, dios... ...me cagò, salio, salio... ...lì, dame aquí una hora con cambio que no me tropeau... ...eis là qui, me cagò, si no se la y no a mi di domi... ...sue da mai a altro porpe... ...cai understand... ...si, va aĻar conciamate, ma... ...i, vas aĻar, querida... ...i, va a caesà, a bomarle campo... ...no, va a morire... ...cai aichu, va a caigli, va a enseñar... ...tos ma, si no se lo fué sin canata, la somma con un sinfa... ...ma, llico... Noi se stanno poi qui suda cura, che io stanno a lì su un paese di caminio, e si passano tutti gli aspettuti. Io stanno a lì al lago favorita! Si lo sai allora che domani, io stanno a lì a letto 90-4, questo è un paese. Stanno a lì al local, su remarca questa, mi sape tutto gli aspettano? Stanno a lì andatci l'escriviti e passano tutti gli aspettati. Si io stanno a lì andatci l'escriviti e si passevano tutti gli aspettati. Stanno a lì, andatci l'escriviti e il riposo. ... ... ... ... Sì, poi voglio fare questa carica finessa che le ha dato la funda di un puro, che è di male, che è ovvio, questo è il nostro capitano Mallorca. Buon lavoro, qui va, buon lavoro, buon giorno per tutti, che voglio essere saluto. Caglio, appassimamente stai, caglio, è detto che ambo, chiamete proprio il volo a farlo, come ci va a dare la tirata a coperti, cambio, se n'è un po' di idea, non mi pregunte,